Avevamo messo in evidenza come l'opera di rifacimento in via Monte Albano lasciasse molto a desiderare, in quanto si era provveduto semplicemente a stendere uno strato bituminoso, senza tener conto della pavimentazione preesistente, con risultati esteticamente penosi. Questo modus operandi si ripete anche in altre vie della città, e precisamente in Vico Monsignor Mores. In questa traversa di Corso Garibaldi, sita a pochi metri dalla chiesa di San Giovanni Battista, è ben visibile l'asfalto che ricopre l'antica pavimentazione. Questo intervento di rifacimento, che potremmo definire tampone, non è stato realizzato nemmeno per tutta l'estensione del vicolo. Addentrandosi infatti nella viuzza si notano ancora buche ed avvallamenti che non sono stati risarciti. Forse è meglio così, si potrebbe affermare, perlomeno ci sarebbe ancora il tempo per realizzare dei lavori più consoni, che potrebbero evitare di trasformare questo caratteristico vicolo in una lunga lingua nera d'asfalto. Inoltre i lavori sembrano essere stati eseguiti alla bella e meglio. Dall'interno infatti sono ben visibili le tracce di bitume sul dissuasore in pietra, o titilicchio che dir si voglia, che si trova al suo imbocco, e anche i chiusini dell'acquedotto qui presenti spuntano a diversi livelli del manto stradale, mettendo in evidenza una mancanza di omogeneità nella stesura dell'asfalto. Ci chiediamo come mai, in vie così particolari del nostro centro storico, non si badi maggiormente alla tutela dell'estetica e si permetta di realizzare lavori che ne mutano e intaccano profondamente l'aspetto. Di sicuro un'operazione simile risulta molto meno dispendiosa, rispetto ad una realizzata con maggiore attenzione per i dettagli. Ma a questo punto è lescito domandarsi se non sia il caso di puntare lo sguardo verso i privati o le associazioni di servizio, che potrebbero, per così dire, adottare una via o un monumento simbolo e sostenerle le spese per il rifacimento. Ciò è accaduto ad esempio nel 2002, quando il Rotary Club di Lucera si occupò del restauro del Pozzo Sito in Via Lecce. E non è da escludere che possa ripetersi ancora per altre realtà del nostro paese.